Greta versus food and the pomelo experience adesso the arachidi experience pomelo con sale, zucchero, peperoncino che è buonissimo e qui ci hanno regalato delle arachidi non tostate tiene ferme arachidi non tostate che sanno abbastanza di arachide ma sono molli mollicce sanno di schifezzone arachide e fagioli del Giappone